Il sospetto è sparito, mi fermo qui, passo e chiudo. Qui è Londra chiama Londra, io sono Tash e siete su Baccani e Radio, la vostra fonte preferita di verità scomode. Nel mondo di oggi abbiamo dovuto abituarci a est... Buonasera a tutti, grazie. Buonasera a tutti, 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 buonasera a tutti. Tabbacca di Radio, questa è Natalpa. Salve. State ascoltando Natalpa. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sai cosa ci facciamo coi terroristi, Lopez? Ah, ah, ora non negare tutto, mincazzo. Lo sappiamo che sei del Tezzec. Credi di esserci finito per caso in mezzo al rastrellamento? Col cazzo. Non hai niente da dire? Tanto peggio per te allora, perché io voglio informazioni. I tuoi compagni di cella, chi sono? Voglio nomi, posti, voglio tutto quello che sai. Mi prendete per stupido? Io vuoto il sacco e poi che fate? Mi lasciate andare? Non vi dico niente invece, tanto lo so come va a finire. Oh, non ne hai la minima idea invece. Ti darò impasto ai lupi. I Kelly hanno un modo molto interessante di risolvere i problemi. Pensate che abbia paura di due delinquenti del cazzo o di finire a mollo nel Tamigi. Fan cu. Sei troppo caruccio per quello. Per prima cosa venderanno il tuo culo al miglior offerente. Poi, quando ti avranno usato per bene, ti faranno a pezzi e si venderanno anche quelli. Ripeto, non mi fate paura. Quasi quasi un po' mi dispiace per te. Va bene, portatelo in quella cazzo di clinica allora. Pronto, pronto. Non rispondi più. Non cambia niente. Non cambia il fatto che è quasi arrivato il momento, no? Siamo stati più che pazienti e comprensivi, in proposito. Se pensi che non avrai più bisogno dei nostri servizi, posso tranquillamente dire alla signora Kelly che sei fuori dalla lista. Non posso prometterti che non ti succederà niente, però. È un brutto mondo, pieno di pericoli. La scelta però è tua. Se cambi idea, sai dove trovarci. C'è comunque una penale per il ritardo, quindi non pensare che possa aspettarti per sempre, ok? Ehi, ascolta. Cosa? Cosa sta succedendo? Oddio, oddio, cazzo. Non ha idea di quello che sto vedendo. Cazzo. Cosa? Stanno bruciando calaveri, i corpi umani. Questo posto doveva essere chiuso. Era perfetto per farsi una cannetta. Oh, cazzo, cazzo, cazzo. Ci sono casse di budella qui. Ma che cazzo? Che cosa c'era in quella canna? Calmati, sei in paranoia. Uno ci sta guardando. Aspetta. Dove sei? Chi è che sta guardando? Al vecchio inceneritore. Cazzo, questa è roba tosta. Ehi, amico. Ehi. Ci sei? Siamo ovunque. Daybreak ha avuto inizio. La nostra mente si nutre. In ogni atto secondo, la nostra mente si nutre. Siamo creatori di mondi. I distruttori. Siamo ovunque. Sono lieta di mostrare tutto ciò al consiglio di amministrazione. La struttura sarà un'estensione del mio laboratorio di informatica quantistica e ospiterà alcuni progetti che preferisco non affrontare in questa presentazione. Si tratta di una proprietà di grandissimo valore. È come se voi tutti aspettaste che ne facessi buon uso. Quest'oggi, qui su Upload, parleremo di una persona di spicco, Sky Larsen, l'enigmatica fondatrice di Brokatech. Qui a Londra chiama Londra. Siete su Baccani a radio. Il vostro... Vuole automatizzare i nostri lavori. È una cosa seria. Il direttore Cassa. Dici sul serio. Prendi nota. L'attentato al Tohan ci offre un'opportunità eccellente. Una volta preso il completo possesso del luogo, avremo un ottimo punto di osservazione sul... Ciao, principessa. Volevo solo sentire la tua voce. Oh, questa è nuova. Sono l'ispettore Caitlin Lau. Beh, ex ispettore in realtà. Da quando c'è Albion. La poli... Sono Claire Waters e in... Bentornati a Upload. Oggi parleré... A breve, nell'episodio di oggi di Upload, parleremo di come Bugly si è riuscito a conquistare tutta Londra. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Upload. Ciao e bentornati a Upload. In questa puntata parleremo del CTO S3.0, il sistema operativo cittadino che ora controlla tutta Londra. Non credo che serva a qualcuno, ma vi ricordo... Benvenuti a Upload. E a mezza un sottotitore... La pesta di Upload. È il sistema operativo... E a mezza un sottotitore... è per il sistema operativo... Lo che vede... È il sistema operativo cittadino... Conoscimento... E a mezza un sottotitore... È il sistema operativo. Grazie a tutti. Non farti beccare dalle forze dell'ordine con quella roba. Non farti beccare dalle forze dell'ordine con quella roba. Non farti beccare dalle forze dell'ordine con quella roba. Non farti beccare dalle forze dell'ordine con quella roba. Non farti beccare dalle forze dell'ordine con quella roba. Non farti beccare dalle forze dell'ordine con quella roba. È finita. Concludo l'inseguimento. La patta non va neanche un po'. Beccare dalle forze dell'ordine con quella roba. E viocca senza rivali. Ok, hai chiuso. C'è qualcuno. Ok, ora ti amare. L'ho preso! Aiuto! Manto il mio ragno! 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Può andare. Sì, sì. 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 Non ci sono altre parole. Sì, sì. Sì, sì. Hai provato a fottermi, sei rimasto fottuto? Sì, sì. Centrale, non vedo il sospetto. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Lo so, sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì.